Contrago un milione di euro di debiti. Io non ho mai avuto insoluti. Quell'anno ho 380 mila euro di insoluti. È stato terribile. E quindi ho detto a tutti tiriamoci sulle maniche. Quindi innanzitutto io pago tutti, i miei dipendenti, sempre senza mai fare un giorno di ritardo. Anticipo agli artisti i soldi non pagati dalle aziende e quindi faccio un debito con l'erario. Lascio indietro lo Stato. Intanto non lascio le persone senza i loro soldi. Se accumuli tutto, fondamentalmente erano quasi 480 mila euro che con le more sono diventati un milione. Gli chiediamo di rateizzare perché non abbiamo le possibilità e perché non volevo fallire. Mi hanno consigliato Luca Chiudi, fallisci. Per me era una vergogna. Ho detto no, io non fallisco. Ho avuto fino a nove mesi fa 28 mila euro al mese da pagare per tutti questi anni.